Esordio in campionato in Serie D per il Montevarchi che domenica ospita al Brilli Peril Serravezza. Una squadra abbastanza ostica che il mister Calori conosce, visto che l'ha affrontata anche nella passata stagione. Sì, per l'appunto è stata l'ultima partita di campionato dell'anno scorso. Conosco l'allenatore Cristian Morosso, ci ho giocato anche insieme. Conosco la squadra perché diciamo che tre quarti della squadra dell'anno scorso è rimasta quella. Sicuramente è una squadra che fa un buon calcio, è una squadra sicuramente ostica ma tanto da qualcuna dovevamo partire. Quindi l'importante è partire. Aver giocato solo una partita ufficiale e perso ai rigori, che dimensione dà alla sua squadra? La dimensione stava nel fatto di affrontare la partita con il Figlini in modo da squadra, di essere il più squadra possibile. Questo è quello che c'è stato e che mi soddisfa di più. Poi sugli errori ci dobbiamo lavorare ma non siamo una squadra che sicuramente nelle prime partite avremo una nostra identità precisa. La stiamo cercando ma arriverà molto presto. È normale che con il Figlini ci interessava essere squadra. Quello c'è stato, dispiace perché in secondo tempo potevamo fare qualcosa di più, però secondo me abbiamo capito che campionato sarà. I giocatori saranno tutti a disposizione? Tutto questo aspetto, qualcosina abbiamo di difficoltà non tanto per la preparazione fatta ma quanto per pregressi di infortuni che purtroppo sapevamo già. Quindi diciamo che come inizio di campionato non partiamo con tutti al completo, però insomma abbiamo un buonissimo gruppo e sono contentissimo della squadra fatta dal direttore perché non era semplice allestire in così poco tempo 24-25 giocatori, insomma era veramente difficile quindi lo ringrazio personalmente.